La nostra opera rappresenta lo Stargate, famoso film del 1994. Volevamo rappresentare con lo Stargate un viaggio in più dimensioni, ad esempio nel film so che vanno in Antartide, quindi noi la rappresentiamo un po' un viaggio che ne abbiamo fatto da Ceggia per portare il nostro portale, il nostro Stargate qua a Cessalto. È un viaggio di pochi chilometri, ma l'insegna della condivisione e dell'amicizia, quello intrapreso anche con la fantasia dai ragazzi del Carnevale di Ceggia che si preparano così a navigare le acque del Brianna per l'ormai caratteristica sfilata in notturna nel cuore di Cessalto. Abbiamo lavorato in quasi dieci ragazzi, un po' smistati nelle sere, diciamo 5-6 a sera, e ragazzi dai 15 ai 20 anni, tutti giovani. Luci sul Brianna è un evento che ormai fa parte del Ferragosto Cessaltino da quasi 70 anni, come spiega una volontaria, Marica. L'iniziativa è partita da un medico veterinario che ha osservato la barca di un pescatore che scendeva al fiume Brianne in occasione del Venerdì Santo ed era illuminata con delle luci e da lì ha deciso di riproporla come un momento di festa e di renderla una manifestazione. La prima barca era una piccola barca a forma di cigno, seguita da due barche, due zatte in realtà, con a bordo dei cantori e dei suonatori e da lì negli anni le costruzioni sono aumentate e si sono perfezionate. Quest'anno abbiamo il tema Hollywood e questo è ciò che abbiamo realizzato. Sfileranno da questo punto qua fino al ponte in piazza dove rimarranno tutta la notte e domani sera ci sarà un'altra sfilata alla stessa ora di questa sera. Atmosfere hollywoodiane, quindi a cessalto per il fine settimana, un momento per ritrovarsi e festeggiare l'estate senza per forza andare al mare. Vi aspettiamo questa sera e domani sera. Yeah!